Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILI per lavori, coda è di 3 km tra la Strassigna ed Empoli Est verso Livorno e di 1 km tra Montelupo e Ginestra in direzione di Firenze. Per traffico, inoltre, coda è in uscita alla Strassigna per chi proviene dal capoluogo. Ci spostiamo sul raccordo sia in Firenze, Prudenza per Ghiaccio tra Bargino e San Donato nei due sensi di marcia. Sul tratto si registrano rallentamenti. Ottima pagina per il traffico ferroviario. L'Aerostar Frecciarossa 9446, Napoli Centrale, Venezia Santa Lucia, sta viaggiando con 20 minuti di ritardo. Il transito a Firenze è al momento previsto alle 19.42, salvo recupero. Prima di salutarci per il traffico urbano del capoluogo, ricordiamo che è in corso per tutta la giornata uno sciopero ATAF, possibili disagi. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!